Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video spacchettamento Avon di Campania 15. Questo è il pacco, sono state ordinate pochissime cose di cui la maggior parte sono tutte mie e tre prodotti di una cliente che gli ho già portato perché gli servivano. Partiamo subito, faccio un video velocissimo. Partiamo dal cartaceo, la fattura, poi mi hanno mandato il catalogo di Campania 17, l'avon per te di Campania 16, ho ordinato tre cataloghi di Campania 16, che uno gliel'ho lasciato già alla cliente. Poi, il catalogo casa con i saldi che arrivano fino al 25%. L'avon Outlet di Campania 17, con alcuni prodotti veramente a prezzi molto molto vantaggiosi. E partiamo subito. Allora, ho preso da Avon Outlet due portamonete. Queste portamonetine sono in oro rosa. Ne ho presi due perché costavano 1,99 euro. Uno lo tengo io e l'altro gliel'ho regalo a mia sorella quando la vedo perché io abito a Roma, lei ha l'Odi in Lombardia, quindi quando la vedo glielo do. Ve lo faccio vedere. E' in oro rosa, con questa scritta molto molto carina. E dentro è molto molto capiente, devo dire. Oddio, non è solo un portamonete, potrebbe essere anche un portacchiave, insomma. Poi, ho ordinato un bagno schiuma della Senses, quello a rosberry e vanilla. Questo era il bagno schiuma che non avevo ancora provato ed era in offerta a 1,99 euro, questo è da mezzo litro. E prendendo un prodotto di questo catalogo, avevamo la possibilità di avere il primer a 1,50 euro, questo della Mark. Prezzo anche molto vantaggioso perché lo si trova da catalogo a 9,99 euro, quindi 10 euro. Per 1,50 euro ho approfittato dell'offerta. Ve lo faccio vedere, se riesco ad aprire. Questo qua è lo specchio e questo è il primer. Poi, sempre da catalogo, ho voluto prendere un altro bagno schiuma. Questo qua è alla mela e cannella, credo. Sì. E questo qua è l'edizione di Natale, sempre pagato 1,99 euro. E acquistando un prodotto da questo catalogo, ho ripreso il primer, sempre della Mark. E' sempre 1,50 euro, quindi un'altra offerta. Niente ragazzi, campioncini 0, come al solito, prodotti che mi arrivano rotti. Fatemi sapere se è capitato anche a voi di questa cosa. Comunque, aspettare un pacco 11 giorni, sapendo che alcune youtuber, ho visto tanti video, che l'hanno ricevuto prima di Natale. Si vede che io non sono fortunata. Vabbè. Allora, il video è finito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, così non perderete i prossimi video. Un bacio e alla prossima. Ciao! Grazie a tutti.